Allora, arrivi dal Bari, è stata una parentesi sfortunata, non hai avuto la possibilità di metterti in mostra, però tutti ne parlano molto bene di te come uno dei migliori difensori under 20 d'Italia, tra l'altro credo che eri anche convocato nella nazionale di categoria, penso. Ho fatto delle apparizioni, ma niente, a Bari è stato un po' sfortunato, ho avuto subito questa operazione a Caviglia e ora sono qua, ringrazio il Presidente, il Direttore e il Mister, che comunque credono in me e grazie a loro, altrimenti sarei fermo ancora. Altri quattro mesi, se non era per loro. Il tuo ruolo preferito qual è? Esterno, desto oppure centrale difensivo? Perché ci hanno descritto un po' che tutte e due ruole potresti ricoprire. Sì, potrei ricoprire tutte e due, io preferisco un po' di più terzino, però ovviamente dove mi mette il Mister, per me è lo stesso. Grazie, come ho detto prima, ai dirigenti di questa società, posso ancora mettermi in discussione in questa squadra. Sì, come in qualsiasi squadra c'è sempre della concorrenza. Sta a noi, a chi lavora meglio, a chi si impegna di più, a chi non molla mai e il Mister poi farà le sue scelte. Noi dobbiamo solo metterlo in difficoltà.